Ciao, benvenuto o benvenuta. Se siamo qui è perché hai deciso di utilizzare i prodotti Herbalife per raggiungere il tuo obiettivo e te lo spiegherò fra pochissimo. Prima mi presento velocemente, sono Monica Corbellini, distributore indipendente Herbalife, ho 56 anni. Io ho iniziato a usare questa colazione ai prodotti Herbalife quasi 14 anni fa e ricordo ancora fin dai primi giorni l'energia nuova con cui mi sono svegliata e soprattutto, che era il motivo per cui ho iniziato, mi sono asciugata di due taglie diversi centimetri nella pancia che mantengo tuttora. Adesso andiamo a vedere come fare questa colazione con i prodotti che ti sono stati dati. Da sapere fondamentale sono tre cose che il nostro corpo ogni mattina ha bisogno ogni mattina per chiunque di essere idratato, disintossicato e nutrito. Sono tre azioni, ogni azione che noi faremo, che corrisponde a quel beneficio, preparerà proprio il nostro corpo a ricevere i benefici dell'azione successiva. Le vediamo in sequenza. Innanzitutto andiamo a idratarci la mattina perché siamo veramente asciutti. Abbiamo perso da uno a due litri di liquido durante il giorno e durante la notte respirando e traspirando. Quindi noi la mattina abbiamo bisogno di idratarci. Lo facciamo con una bevanda a base di aloe, questo è il gusto mango, sono tre gusti, mettendo questi tre tappini in un bicchiere d'acqua. L'aloe non solo ci idraterà, ma ci sfiamma, lenisce e cicatrizza da dove entra e dove esce. E quindi questa è la prima azione. Idratiamo. Dopodiché andiamo a disintossicare e per disintossicare abbiamo bisogno di, perché disintossicare? Perché la notte il corpo ha fatto rigenerazione cellulare, quindi la mattina siamo anche un po' sporchini. Noi metteremo un po' di acqua o calda o fredda, io la preferisco calda e poi decidi tu, di una miscela assolubile a base di erbe brevettata in quattro gusti e ne metterai un mezzo cucchiaino da caffè, cucchiaino da cucina, oppure se ti è stato dato il cucchiaio dosatore, il misurino quello più piccolo della nostra acqua calda o fredda e così andiamo a verci il nostro infuso. Un infuso che non solo ci disintossica, ma ci dà energia, ci sveglia e va a drenare. E questa è la seconda azione. Disintossichiamo. Dopodiché andiamo a fare che cosa? La terza azione è nutrirci, perché la notte è il periodo più lungo in cui siamo a digiuno, abbiamo bisogno di nutrienti la mattina, dobbiamo partire con una bella sferzata la giornata. Lo facciamo con il formula 1, è il pasto nutrizionalmente completo che ci dà tutti i nutrienti che ci servono per dirsi pasto completo ma in poche calorie. È in 9 gusti, gusti cremosi e gusti fruttati e lo mettiamo o in un frullatore, se il frullatore viene ancora più cremoso, più frappeoso come dico io, se no nello shaker che ti è stato dato mettiamo 300-350 ml di acqua, 250 a seconda se ti piace più fluido o più cremoso e dentro andremo a mettere due cucchiai del cucchiaio più grande, del dosatore se non cucchiaio da minestra, di formula 1 e aggiungeremo due cucchiai di apporto proteico. È fondamentale il protein drink mix perché è gusto vaniglia, si presta benissimo con tutti i gusti del formula 1, quindi in tutto 4 cucchiai, 2 di formula 1 e 2 di protein drink mix. Andiamo a chiudere, bene perché se no facciamo dei disastri, il nostro shaker e mescoliamo, agitiamo energicamente per qualche secondo. Il nostro shaker è pronto e con questo siamo nutriti. A questo punto dobbiamo bere almeno 2 litri di acqua al giorno e quindi ci prepariamo o la bottiglietta, delle bottigliette da mezzo litro o quelle da un litro e sicuramente sarà più gradevole bere aggiungendo e o un po' di aloe e un po' di infuso. Questa è una scelta tua e sarà fondamentale fare snack proteici sani, spezzare, non stare troppe ore digiuno. Noi ne abbiamo di dolci, di salati in tutte le formulazioni. Poi chiedi a chi ti sta facendo assistenza. Per chi è questa colazione? Per tutti. Se il tuo obiettivo è benessere energia, farai questa colazione, berrai 2 litri di acqua al giorno almeno e farai i tuoi snack proteici. Già sarà una giornata diversa. Se il tuo obiettivo vuoi aumentare di massa muscolare, quindi prendere massa muscolare, farai la tua colazione e aggiungerai nella tua giornata 2 shake al di fuori del pranzo e della cena che sei abituato a fare. Se invece il tuo obiettivo è perdere massa grassa, quindi perdere peso di conseguenza in modo sano, farai la colazione come abbiamo visto e poi sostituirai o il pranzo o la cena con uno shake, poche calorie ma tutti nutrienti, avrai un pasto libero al giorno, chiaramente fatto con buon senso, visto che l'obiettivo è perdere peso. Il tuo obiettivo lo raggiungerai, io sono certa, perché ci metterai l'impegno che serve, i prodotti fanno il loro lavoro, il più grosso lavoro lo farai tu e la persona che ti sta aiutando a raggiungere il tuo obiettivo. Buona Herbalife e buona giornata!